ben ritrovati amici di Radio Sanera buona giornata qui dalla radio è lunedì nove settembre del duemilaventiquattro inizia la seconda settimana di sosta quella che però fortunatamente ci condurrà alle partite della prima vera grande tranche di gare da Venezia da Venezia Liverpool Inter in poi saluto Enrico Boiani ciao Enri ciao buongiorno buongiorno a tutti e ben ritrovati Enri in realtà il weekend ci ha lasciato una notizia un po' così cosà eh ne abbiamo già parlato ieri sera un piccolo video speciale dell'infortunio di Isma Benasserre al polpaccio un infortunio tra l'altro non nemmeno di poco conto che rischia di escluderlo fino a dicembre dicembre in oltrato con quello che poi ne deriva perché il giocatore che resta fermo tre mesi poi deve rimettersi in moto insomma il rischio di non vederlo un granché per questo 2024 e quindi siamo pochi eh quindi sì siamo pochi centrocampo siamo pochi quindi se pensate che siamo pochi a centrocampo mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanella se pensate che invece ce la faremo comunque mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciandoci anche un commento mi raccomando fatelo grazie a tutti coloro che ci supportano detto ciò scherzi a parte è una tegola importante a livello più ti direi più numerico che anche qualitativo perché Benasser se sta bene non ha nulla da invidiare a Reinders non ha invidiare a Fofana e quindi eh anche a livello qualitativo per come si erano messe le cose con l'ultimo giorno di mercato Benasser che non si era allenato e via discorrendo ti direi che in questo preciso momento della stagione è più una tegola numerica cioè hai Reinders che tra l'altro ha giocato una grande partita contro la Bosnia hai Fofana di cui non si può dire lo stesso contro l'Italia e Musa che in questo momento è la prima vera alternativa ai due è vero che puoi abbassare l'hoftusci come abbiamo visto che i risultati sono stati più che deludenti nella partita contro il Torino è vero che hai questo giovane Vos Milan futuro che potrebbe fare la scuola e che magari ti può dare anche una mano così come Zeroli però non è la stessa cosa che avere Benasser quindi dal mio punto di vista è un rischio poi non so sicuramente ne avrei parlato nel video speciale se ci sia la possibilità di intervenire magari alla Rabiot per poterlo inserire però nelle liste non so come e quindi credo che a questo punto le alternative dobbiamo un po' usare quelle che abbiamo in casa nostra e credo che più o meno sarà sarà questo il nostro nostro destino non difficile che il Milan vada a prendere Rabiot ve lo chiedo anche eh alla chat tra virgolette ai commenti quindi a voi che ci state guardando se prendereste Rabiot oppure no perché ve la metto proprio sul tavolo chiare tonda eh Rabiot in questo momento è svincolato ed è fermo da due mesi o o poco meno da dalla praticamente dalla semifinale con la Francia eh è una partita questa di Rabiot che rischia di iniziare tra un venti giorni venticinque il tempo di dargli un un minimo di preparazione nelle gambe perché un giocatore fermo ha bisogno di quindi vorrebbe dire che dei tre mesi di benassero uno Rabiot lo passa provando a rimettersi in moto eh oltretutto ha la questione Champions League che li grava sulla capoccia cioè non può giocare la Champions League fino al turno successivo quindi le partite iniziali non le potrebbe giocare potrebbe giocare solo e soltanto in Serie A che non sarebbe male ci mancherebbe altro però questo è un giocatore che rischia di chiederti quanto non so quanto onestamente nemmeno all'anno visto dipende anche un po' come la signora Veronique eh che chiede in quel momento per giocare quante venti partite poi per poi averlo eh non è che se ne va però credo che in questo momento il Milan non sia nell'ottica di fare un'operazione del genere piuttosto fa salire Zeroli che però due lì in mezzo per me fa una fatica tremenda a tenere il passo eh proprio a tenere il livello della Serie A dico non che non lo possa fare però a tenere la Serie A è dura un po' prestino forse quindi potrebbe venire su per fare il vice di Loftus con Loftus che magari lui sì un qualche metri inietro lo potrebbe fare anche se abbiamo visto che non è che garantisce grandi grandi prestazioni potrebbe salire Liberali e dare una mano in tre quarti per far scendere Loftus potrebbe scendere Voss che potrebbe essere lui il mediano davanti a difesa anche se Voss non può fare la Champions League è una bella piaga questa una bella piaga una bella gatta da pelare poteva ti direi tornare utile anche Florenzi no a centrocampo in questo senso tant'è che nel precampionato Fonseca lo stava provando proprio lì e però anche Florenzi è fuori per infortunio io altre soluzioni non mi vengono in mente proprio a essere molto franco e onesto cioè Bo Terracciano in carriera ogni tanto ha fatto l'interno di centrocampo però è super forzata come cosa quindi è una situazione un po' particolare speriamo che stiano bene Fofanai Renders così devo dire che stia bene Musa e speriamo che che davvero possono giocare tante partite perché altrimenti diventa difficile no diventa difficile più che altro per la nostra composizione del centrocampo perché già insomma Fofanai deve ancora mettere benzina nelle gambe l'abbiamo visto che con l'Italia non è al massimo della forma quindi bisogna sperare che si metta in moto nel più breve tempo possibile. Renders l'abbiamo visto anche con l'Olanda se gioca a mezzala o qualche metro più avanti male non fa anzi fa meglio magari davanti alla difesa a due fa un po' troppo fatica e va bene l'altro è Musa che è davanti alla difesa a due l'abbiamo visto almeno qualche mese di scuola ancora davanti il centrocampo non ha grandissime certezze in questo momento perché poi l'altro è Loptus uno è Benaser gli altri sono due ragazzi giovani insomma quello che forse è più centrato quando ha le gambe che girano è Fofanai per il tipo di ruolo che gli chiediamo non dico perché poi Renders ad esempio se giochi a tre a mezzala sinistra è centrato ma se gli fai fare il mediano a due. Io non so cosa cosa deve succedere per far sì che capiamo o proviamo a fare un tentativo perlomeno di giocare a tre sta accadendo di tutto cioè i pianeti anche in senso negativo per il Milan si stanno allineando per farci in qualche modo giocare a tre perché giocando a tre abbassi l'Oftus hai più possibilità anche se dovesse salire Boss anche se dovesse salire Zeroli cioè hai un po' più di chance no anche adattando alla peggio che ne so Terracciano hai sicuramente più possibilità dovessi giocare a tre avresti giocatori un po' più nei loro ruoli io non so cosa debba ripeto succedere per far sì che questa cosa accada forse non accadrà non lo so fatto sta che adesso inizia un round di partite anche ravvicinate con un po' di turni anche in mezzo alla settimana con la Champions League Dio abbia in gloria e in grazia soprattutto in salute Fofanae rendersi musa perché altrimenti davvero non vedo soluzioni Henry noi siamo arrivati praticamente alla fine ci rivediamo tra poco in realtà per lancio tol che stasera però direttore non abbiamo fatto i complimenti non abbiamo fatto i complimenti a quel vecchio cuore di Yannick Sinner che ha vinto il secondo slam secondo me è doveroso dai è stato un anno un po' particolare comunque con un sacco di vittorie e ha messo a tacere un po' di un po' di malelingue vedi vedi nello sport nello sport devi competere per vincere cioè di base funziona così non per partecipare non per fare al massimo top 4 nel ranking ATP competi per essere numero uno e per sollevare i trofei dovremmo ricordarcelo perché poi quando vinci non si può dire niente se vinci nessuno ti dice niente sei il numero uno se cosa potresti vincere R2 invece il Fanta come quasi tutti gli anni l'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina Fanta algoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del milan in palio ogni settimana una maglia del milan oltre a tantissimi prodotti apple per la classifica finale cosa aspetti trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie instagram di radio rozzonera il costo di iscrizione è di soli 20 euro ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fanta algoritmo come avete sentito con 20 euro ci si può iscrivere la lega di fantacalcio di fantalgoritmo di radio rosso nera per competere tra tifosi del milan con noi insomma con amici parenti milanisti no scherzo potete anche fare iscrivere gente che non è milanista ci mancherebbe altro giusto per il gusto di bastonarlo al Fanta per 20 euro potete vincere appunto una maglia del milan ogni giornata se vincete il premio di tappa ovvero la giornata di fantacalcio oppure alla fine della stagione se vi piazzate bene potete portare a casa premi apple direttore il quasi tutti gli anni è perché l'anno che verrà cioè quest'anno il Fanta l'hai già vinto tu praticamente assolutamente sì assolutamente sì certo saluto tutti per iscrivervi al la lega fantacalcio qua sotto nel link trovate nella descrizione trovate il link e ringrazio dopo ciao 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 a tutti ci vediamo tra poco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti